Fino a qualche anno fa si lasciava la Sicilia e si lasciava Palermo già dal momento dell'università. Adesso ci sono delle ragioni perché questo non avvenga più. Sono d'accordo. È una realtà che per fortuna si sta realizzando e che è legata a una progressiva trasformazione diciamo del tessuto sociale siciliano in generale, ma in modo particolare anche del mondo universitario. Il Palermo ha lavorato fortemente in questi due anni per dare ai nostri ragazzi un'offerta formativa cambiata, moderna, più attrattiva, più legata in qualche modo al cambiamento dei tempi e soprattutto ha dato un'impostazione molto chiara che per noi non è soltanto importante quello che avviene nel mondo universitario ma per noi è fondamentale creare i presupposti, gli agganci tra il mondo universitario e il mondo del lavoro. Questo avviene attraverso quello che noi chiamiamo il tirocino curriculare quindi siamo riusciti a convincere i nostri ragazzi che i tirocini che sono pagati da noi nella fase pre-laurea possono poi diventare uno strumento estremamente utile di conoscenza del mondo del lavoro e di conoscenza degli imprenditori nei confronti dei nostri ragazzi per cui questo contatto avviene già durante il mondo universitario e poi si concretizza in una richiesta di occupabilità. Questa occupabilità è aumentata ed è stata uno dei parametri che ha permesso a Palermo di raggiungere la importantissima posizione della quarta posizione a livello nazionale fra i megatenei dietro blasonatissime università storiche come Padova che per la prima volta scalza Bologna dal suo ruolo di prima della classe da più di 15 anni, Bologna al secondo posto e terza posizione Roma alla Sapienza. Avere Palermo megateneo del sud, questo punto unico megateneo in posizione del centro sud superando anche qui università come Napoli, Bari, Pisa, Firenze, Torino, Milano ci dà una responsabilità ancora maggiore, ci dice che siamo sulla strada giusta e tutto questo insieme a una politica che sta cambiando e che vede nel South Working una possibilità potrebbe rappresentare davvero per la Sicilia una riserva incredibile di professionisti che a questo punto possono cominciare a cambiare la classe dirigente siciliana e a innescare quei principi di lavoro che dovrebbero contrastare la fuga dei cervelli verso il nord. Quali saranno gli obiettivi, i propositi per il futuro anno accademico? Gli obiettivi sono potenziare ancora l'offerta formativa, stiamo lavorando per veterinaria stiamo lavorando per il potenziamento dei poli periferici di Caltanissetta, Trapani e Grigento quindi stiamo cominciando a realizzare quel concetto di università diffusa che in relazione alle caratteristiche orogeografiche della nostra terra possono diventare una reale occasione di università sotto casa.